Ciao da Francesco e benvenuto a Spac eCommerce, il format dove analizziamo nel dettaglio gli e-commerce e vediamo se spaccano oppure no. Oggi analizziamo il sito di Notino.it, un sito molto famoso in ambito cosmetica e profumeria, un e-commerce internazionale. Vediamo a livello di UX e UI se effettivamente è ben fatto. Allora partiamo dalla home page, iniziamo col desktop, poi andremo ad analizzare anche la parte mobile. Quello che vediamo è che non ci sono pop-up per la parte di lead generation, anche navigando e scrollando non vengono fuori. Questa può essere anche una scelta che a volte si fa nel lasciare libero durante la navigazione il nostro utente, però insomma solitamente è anche una best practice quella di andare a testare dei lead magnet non solo per il primo acquisto ma soprattutto per portare utenti nel database. Il layout come vediamo è un full page a livello di header ma poi nel corpo comunque diciamo non segue l'impaginazione full page. Quindi sicuramente quello che si potrebbe fare è cercare di andare a utilizzare un layout più esteso, di modo che riesco ad occupare più spazio all'interno del mio above the fold che vi ricordo a questo spazio prima dello scroll. Il menu è ben fatto, molto lungo, quindi sono state portate diciamo le principali categorie e come vedete il Black Friday è stato messo in rilievo subito come prima selezione sulla sinistra. Questa è una best practice SEO perché comunque vado a dare importanza in ordine gerarchico alla categoria di Black Friday e dei regali di Natale in questo momento specifico e è anche intelligente avere non solo una categoria ma anche ovviamente una pagina di atterraggio come quella del Black Friday sia per portare traffico a pagamento ma anche per ovviamente andarsi a posizionare lato SEO su query che possono essere più o meno specifiche. Quindi bene il menu, una cosa che potremmo aggiungere nel menu è magari qualche concina o magari andare a sfruttare questi spazi bianchi con magari delle promozioni piuttosto con della banneristica perché comunque come vedete essendo un menu in javascript quindi dinamico comunque si porta dietro uno spazio bianco che può essere riempito. Poi qualcuno magari potrà dire sì, magari potremmo mettere anche un'iconcina che può aiutare, questo assolutamente può aiutare però diciamo la parte di architettura sicuramente è stata ben studiata e ben organizzata lato SEO. Nella parte alta della top bar l'altro giorno mi sono collegato e c'erano altri contenuti quindi molto probabilmente questa parte è in A-B test quindi viene testato di volta in volta quello che può essere qualcosa da comunicare che può aiutare. In questo caso ci invitano a scaricare l'app e ci danno un over delivery quindi in regalo una pochette e due prodotti esteloader anche se non mi è chiaro ma poi posso andare sulla landing dedicata e quindi qui posso accedere anche a un regalo. Come vedete cambia poi in base anche alla selezione quindi in questo caso ho una scritta compra senza preoccupazioni con il reso 90 giorni mentre nella home page fanno leva sul fatto che possono incartare un regalo nel momento in cui appunto in questo momento che ci avviciniamo al black friday insomma può essere un'informazione rilevante. Bene testare bene cambiare comunque gli elementi della home page in base al nostro percorso di navigazione. Chiama lo 011 eccetera eccetera ecco qui sicuramente andrebbe reso cliccabile di modo che specialmente da mobile si può attivare poi la parte diciamo telefonica viene riportata una spesa di spedizione e pagamento ecco in questo caso non è molto chiaro e mi rimanda a una pagina interna dove mi comunica che le modalità di trasporto sono di 4,95 euro c'è una spedizione gratuita oltre le 50 euro quindi una best practice è quella di magari non portare l'utente a fare tanti clic ma a lavorare in diminuazione di clic e in questo caso potrei già sin dalla top bar comunicare che la spedizione è gratuita oltre le 50 euro e per importi inferiori ha un costo di 4,95. Subito sotto abbiamo una barra di ricerca molto grande che ci invita e questa è una best practice a cercare un profumo una marca e dei cosmetici quindi molto spesso nella barra di ricerca non viene inserita una scritta che è una call to action che invita gli utenti a cercare all'interno e quindi questa è una ottima best practice. vediamo cerchiamo un profumo cerchiamo Jean Paul Gaultier e vediamo che abbiamo una ricerca per marca una per collezione e poi dei prodotti consigliati. quindi è una ricerca molto probabilmente gestita con degli algoritmi e delle librerie che sono state sviluppate internamente con codice custom questo ci dà la possibilità ovviamente di poterlo sviluppare internamente avere un asset interno ma magari ci toglie qualche funzionalità che può darsi magari un tool esterno come do finder o simili che hanno anche la possibilità di poter filtrare prodotti durante la ricerca potenziata interna e però insomma tutto sommato devo dire che funziona abbastanza bene anche se potrebbe essere ulteriormente migliorata. qui vediamo poi una sezione con delle slide che sono cliccabili quindi vi ricordo che c'è questo fenomeno che si chiama slide blindness che ci dice ma non solo lo hanno studiato gli americani ma l'abbiamo visto anche con tantissime mappe di calore fatte in e-commerce school che la maggior parte degli utenti tendenzialmente non sta lì a vedere tutte le slide che cambiano ma nel momento in cui però do la possibilità di switcharle tramite dei pulsanti questo può aiutare la navigazione stessa delle slide. è chiaro che grazie alle mappe di calore possiamo poi vedere realmente se vengono cliccate e vengono utilizzate tutte. quando gli e-commerce sono così grandi e fanno volumi così importanti come quelli che fanno Tino nel settore è chiaro che questo posizionamento con le slide è anche un posizionamento media che cosa voglio dire? che posso prendere degli accordi con determinati brand e vendere questi spazi come posizionamenti media quindi fare delle collaborazioni oppure farmi pagare da determinati brand perché faccio comunicazione in home page quindi do visibilità a quel determinato brand e questo può essere anche una fonte di monetizzazione ulteriore che può aiutarmi ovviamente a livello di conto economico. è uscito ora il pop up quindi è stato previsto un trigger dopo x secondi o eventualmente x click adesso questo non possiamo saperlo dall'esterno però è triggerato. sicuramente iscriviti alla nostra newsletter non è un angle o una leva molto interessante per gli utenti è chiaro che legarlo a una promozione oppure a qualcosa di downloadabile piuttosto utilizzabile è più efficace rispetto a un iscrivito alla nostra newsletter ma poi sotto c'è scritto centinaia di sconti, fantastiche offerte, novità, regali, bonus in anteprima direttamente nella tua mail. ecco una cosa che faccio osservare è che il testo è un po' piccolo e come lettura del font non è propriamente accessibile vado a inserire la mia mail, clicco su uomo ecco cosa importante non c'era la checkbox per l'accettazione della privacy quindi è importante sempre insomma utilizzare dei pop up che siano a norma ma soprattutto non ho ricevuto adesso un feedback che l'iscrizione alla newsletter è andata a buon fine quindi sicuramente questa attività tramite pop up è da rivedere sempre nel layout per quanto riguarda l'home page vediamo anche che alcuni banner purtroppo non vanno a prendersi l'intero layout in termini di full layout quindi di estensione solo qualcuno è stato diciamo realizzato per andare a prendere tutto lo spazio invece qualcuno poi deve essere sistemato quindi questo diciamo un errore un po' banale che però può essere sicuramente insomma sistemato magari è solamente momentaneo subito sotto ci sono i brand principali questo può essere a volte una best practice non sempre si mettono così in alto almeno che per loro non sia fondamentale comunicarli oppure anche in questo caso parliamo di un posizionamento a pagamento che viene poi retribuito da parte dei brand che vogliono trovarsi subito nella parte alta dello scroll subito sotto abbiamo parte di garanzie e rafforzativi quindi che rientra un po' nella value proposition come restituzione in 90 giorni garantita siamo qui per te tutti i giorni lavorativi un'ampia selezione di cosmetici e profumi sicuramente potrebbe essere migliorata questo aspetto perché Notino è un e-commerce che fa volumi davvero davvero importanti quindi qui potremmo sicuramente inserire alcune informazioni aggiuntive come tutto quello che riguarda per esempio la social proof la community piuttosto le recensioni dei nostri utenti o essere anche semplicemente più specifici in quello che comunichiamo perché un'ampia selezione di cosmetici e profumi è molto generica magari andare a scrivere oltre 91.365 prodotti cosmetici e profumi sicuramente è molto più specifico come anche andrebbe riportato qui non solo un siamo qui per te tutti i giorni lavorativi ma essere più specifici negli orari in cui il call center risponde e dare comunque un customer care sicuramente un po' più reattivo oltre al numero di telefono sarebbe utile anche avere la possibilità di dialogare via messaggistica istantanea quindi o un chatbot o anche whatsapp implementato all'interno del portale stesso e inoltre qui andrebbero riportati anche quelli che sono i tempi di consegna e le spese di spedizione che comunque possono sicuramente aiutare l'utente nell'orientarsi meglio rispetto all'offerta dell'e-commerce poi abbiamo due banner che sicuramente uno è legato al Black Friday e un altro a Oral B anche questi possono essere posizionamenti poi da vendere all'interno del piano media e subito qui sotto abbiamo delle sottocategorie riportate questa è una sicuramente best practice quella di inserire, si chiama interlinking quindi tutta quella che è l'alberatura del sito qui abbiamo solo alcune categorie ma sicuramente andiamo a vedere non c'è l'interlinking è una buona regola quella di splittare sull'home page tutta quella che è l'alberatura del catalogo con i link perché aiuta non solo l'utente a accedere subito a tutta una serie di sottocategorie ma anche la SEO come posizionamento organico e crescita del posizionamento all'interno dei motori di ricerca abbiamo poi sotto delle offerte speciali dove abbiamo uno scroll con dei prodotti dove ci viene riportato lo sconto un'iconcina legato al Black Friday poi abbiamo i nuovi arrivi i più venduti e una parte anche editoriale in fondo alcune sottocategorie questo anche è interlinking su profumi e cosmetici ecco sicuramente manca del testo SEO quindi che non è presente i prodotti potrebbero essere categorizzati sicuramente meglio potrebbero e dovrebbero essere presentate molto di più le varie sottocategorie quindi si potrebbe lavorare anche un po' più di approfondimento della nostra home page però la trovo tutto sommato un pochino scarna e sicuramente potrebbe guidare di più l'utente verso quelle che sono dei percorsi di acquisto sono presenti delle offerte però sono molto legate ai prodotti quando andrebbe ragionato invece delle offerte legate più alle categorie sottocategorie o a determinati brand lo spazio dei contenuti potrebbe essere anche questo migliorato e approfondito o magari dare un link anche proprio alla parte editoriale o al blog mentre vengono riportati solo esclusivamente tre contenuti infine mancano a livello di forte visibilità anche quelle che sono le recensioni perché qui io non le vedo le vedo solo un link a Trustpilot in basso tra l'altro rimanda a una pagina esterna quindi rimanda a una pagina esterna e non si apre neanche in un'altra finestra e questo diciamo non è una best practice ed è un peccato perché comunque hanno 20.000 recensioni comunque con una buona un buon rating e questo insomma potrebbe permettere di avere poi delle slider oppure diciamo dei widget che Trustpilot e simili ci mettono a disposizione e andrebbero comunque riportati all'interno dell'home page perché è vero che Notino oggi è un e-commerce conosciuto insomma fa anche pubblicità nei mass media più importanti però comunque su quegli utenti magari nuovi che non lo conoscono le recensioni e in generale la social proof aiuta davvero tanto quindi questo lo andrei a rivedere all'interno dell'home page andiamo a vedere adesso invece una categoria allora se clicco sulla macro categoria innanzitutto è cliccabile questo non sempre lo è e è un bene che sia cliccabile quindi anche l'URL è stringato semplice e ben fatto dopodiché qui abbiamo delle slide anche queste si possono muovere con un click dei brand e poi abbiamo il listing dei prodotti però una best practice è quella di avere qui nella parte alta non direttamente il listing ma anche avere le scorciatoie per le sottocategorie che troviamo ovviamente qui che troviamo in parte sul menu di sinistra ma che andrebbero poi messe anche qui sopra con magari dei riferimenti grafici e sono delle scorciatoie che ci possono aiutare come possiamo andare anche a creare delle scorciatoie ad hoc come set regalo piuttosto prodotti in sconto del 50% del 20% del 30% tutti questi percorsi di navigazione e scorciatoie aiutano l'utente a non andare a girarsi 339 pagine all'interno di questo listing bene il fatto che i prodotti siano intervallati anche da contenuti questo mi piace molto e però vediamo che io posso cambiare la paginazione è molto piccola quindi andrebbe resa più grande perché sono davvero minuscoli ma non sono neanche non rientrano neanche nelle linee guide di accessibilità se clicco sulla seconda pagina mi cambia come deve l'url poi magari l'url è sporco però tendenzialmente riesco a dire al motore di ricerca che qui c'è una seconda pagina mentre se clicco su mostra successivi mi rimane lo stesso url e questo è un problema lato SEO perché nel momento in cui io vado a inserire questo che si chiama l'infinite scroll devo fare in modo che comunque mi cambi anche l'url perché sto tendenzialmente cambiando la paginazione tant'è che sono in quarta pagina ma l'url non è cambiato quindi questo è un problema tecnico che consiglio di sistemare prima possibile tant'è che se poi clicco sulla pagina numero 5 mi cambia l'url bene i filtri quindi vediamo che ci sono diversi filtri intervalli di prezzo marca con degli scroll interni con un search per le marche più un alfabeto che mi dà tutta la scorciatoia la tipologia di profumo l'occasione regali le valutazioni da parte degli utenti quindi sicuramente ci sono abbastanza filtri ce ne potrebbero essere ulteriori anche un po' più specifici però diciamo sono sufficienti rispetto a quella che è la media l'ordinamento ce l'abbiamo come raccomandati più venduti dal più economico dal più caro in ordine alfabetico anche qui l'ordinamento potrebbe essere gestito con qualche valore in più bene le thumbnail perché riportano comunque delle etichette che variano dal black friday o alcuni prodotti hanno la spedizione gratuita quindi non solo quei prodotti che superano le 50 euro ma ci possono essere alcuni prodotti come questo che costa 40 che in modo specifico ha la spedizione gratuita quindi è una buona best practice quella di utilizzare poi etichette sulle thumbnail per comunicare informazioni aggiuntive sono riportate anche le recensioni e poi il pricing ed eventuali sconti nel momento in cui sono disponibili ovviamente mi manca l'informazione sui tempi di consegna però questo insomma diamo per scontato che siano tutti i prodotti già disponibili nel momento in cui poi andiamo a vedere la scheda prodotto quindi diciamo la parte di categoria sicuramente ecco un'altra cosa che manca anche qui in alto il testo SEO ma vedevo che l'hanno messo in basso e ne hanno messo un bel po' quindi questo anche funziona almeno ovviamente vanno sempre fatti dei test ma dove l'abbiamo testato anche in altri settori comunque ha aiutato il posizionamento organico e in fondo a tutto c'è l'interlinking interno peccato per questi rafforzativi che non ci sono in home page e qui sono troppo troppo in basso quindi andrebbero comunque anche fatti dei test per poterli portare sicuramente più in alto oppure far ruotare magari alcuni concetti e leve che andiamo a comunicare nella top barra andare a modificare poi anche strada facendo su alcuni siti abbiamo visto che c'è la possibilità di cliccare una sorta di quick view quindi si apre un pop up che mi dà alcune informazioni della scheda prodotto per evitare di entrare nei singoli prodotti di volta in volta però tutto sommato insomma questo ci può stare quindi andiamo a vedere adesso la scheda prodotto le foto sono tante e questo insomma non è scontato specialmente per questo tipo di prodotti c'è anche un video e questo sicuramente è un rich content e ci può aiutare sono riportati i breadcrumbs che sono fondamentali da avere in ogni pagina il nome del brand cliccabile che mi rimanda quindi poi alla brand page e anche questa è un'ottima best practice perché ogni brand ha la sua brand page con la sua comunicazione le sue scorciatoie i suoi prodotti e anche questo rientra poi in un posizionamento all'interno del nostro piano media che possiamo andare a vendere passandomi il termine comunque a quei brand che vogliono avere un posizionamento ma soprattutto vogliono avere una loro brand page che sia differente da una categoria anonima che mi parla solo dei prodotti ecco sicuramente qui mi porta sull'home page con l'offerta per quello da 100 ml ma potrebbero anche portarmi su quella da 30 ml perché è più facile che dalla pagina di categoria clicco su un prodotto che costa meno e poi vado dentro e è più facile portarlo all'upselling ecco cosa non chiarissima è il pricing perché qui mi comunica 108 euro poi 86,98 e qui anche non ho i prezzi scontati ma ho tendenzialmente i prezzi di listino il font lo trovo un pochino piccolo e quindi immagino insomma per gli ipovedenti o per chi ha problemi di accessibilità anche una difficoltà nell'andare a leggere il testo in maniera opportuna lo trovo un pelino confusionario però sicuramente ci sono tutte le informazioni che devono essere presenti all'interno della scheda prodotto che bene o male gli utenti si fanno sempre quelle domande quindi il prodotto è disponibile mi dicono che il prodotto è in magazzino ho chiaro quello che è il prezzo ho le recensioni mi manca l'informazione di quando mi arriva ma è subito qui sotto quindi mi dicono che in base alla tipologia di corriere dove mi trovo ci sono già delle date di consegna e questo è fondamentale perché aiuta comunque l'utente a sapere quando gli arriva quel prodotto e magari ha un regalo tant'è che ci invitano poi anche a fare una dedica nel momento in cui si vuole fare un regalo ok quindi posso scrivere che questo è un servizio di personalizzazione molto interessante in più ci regalano qualcosa diciamo insieme all'ordine stesso posso aggiungerlo ai preferiti per acquistarlo in un secondo momento c'è la possibilità di cambiare la quantità non col più e meno ma direttamente dal menu a tendina la call to action è chiara aggiunge al carrello è nera insomma ci sta poi questi sono i colori sicuramente del loro brand a livello quindi di informazioni possiamo dire che ci sono le informazioni principali i tempi di consegna ci sono i costi di spedizione in questo caso è gratuita e quindi me lo comunicano dopodiché abbiamo una descrizione molto approfondita con un ulteriore rich content ma abbiamo anche ulteriori informazioni su quelle che sono le composizioni le informazioni sul marchio le info sul prodotto e poi abbiamo le recensioni legate al prodotto quindi devo dire che questa product page è davvero ben fatta sicuramente una cosa che qui manca e che non sto vedendo sono i metodi di pagamento quindi in che modo possiamo andare a pagare per esempio loro hanno anche la possibilità di far pagare con delle rate con carta di credito a tre rate e questo sicuramente potrebbe essere anche comunicato ci sono poi i prodotti correlati e a livello di algoritmo mi trovo su Narciso Rodriguez su un prodotto da 86 euro e 40 quindi mi consigliano altri prodotti per Narciso Rodriguez sempre per da donna e quindi è corretto la logica dell'algoritmo con spesso prodotti che costano di più qualcuno anche che costa meno vi ricordo che l'obiettivo in questo caso è di far spendere di più all'utente quindi di fare upselling come logica e non di farlo spendere meno quindi l'ideale sarebbe di far vedere prodotti sempre di Narciso Rodriguez che abbiano un taglio prezzo superiore c'è anche poi una selezione editoriale legata al brand Narciso Rodriguez ecco sicuramente una cosa che consiglio ad aggiungere che qui non c'è e che potrebbe essere inserita per esempio all'interno dei tab delle descrizioni sono le Q&A quindi quelle che sono le domande risposte sul prodotto che potrebbero essere riprese anche magari dai motori di ricerca oppure fatte ad hoc in base a quello che solitamente gli utenti cercano o meno sul prodotto ci sono le recensioni sul prodotto che sono comunque a norma perché rispetto alla legge Omnibus sulla trasparenza della raccolta delle recensioni ci viene in soccorso un piccolo pop up che ci dice in che modo vengono collezionate poi è un link in realtà le recensioni ma mancano poi le recensioni diciamo sul servizio quelle di Traspilot che sono sempre qui sotto e che potrebbero essere quindi inserite poi all'interno quindi manca qualcosina però nel complesso diciamo una buona scheda prodotto vado ad aggiungere il prodotto al carrello lo gestiscono tramite un pop up dove mi viene fatto ulteriore upselling e questo è ben fatto vediamo l'aggiunta al carrello è automatica dinamica quindi non mi manda sulla scheda prodotto ma me lo aggiunge in tempo reale nel momento in cui vado nel carrello mi viene comunicata che la spedizione è gratuita il totale posso scegliere un regalo quindi anche questo è fatto davvero bene perché nel momento in cui sono nel carrello mi dai un regalo mi aiuti mi rafforzi comunque l'idea di concludere e proseguire l'acquisto posso scegliere di fare un pacchetto regalo con la sua personalizzazione dopodiché come vedete il sito è anche molto veloce e questo comunque è un'altra cosa sempre da valutare molto importante posso assicurare la spedizione e questo andrebbe specificato bene perché gli utenti tendenzialmente non vogliono avere problemi nella spedizione anche se non lo assicurano e nel momento in cui clicco su ordina compare una pagina di intermezzo che mi fa delle ulteriori offerte di cross selling che posso aggiungere all'ultimo minuto questa è un po' la logica del grande centro commerciale o magari del negozio o della catena molto grande che vado in cassa e ha dei prodotti da inserire all'ultimo minuto all'interno del carrello anche Temu lo fa molto bene Temu lo fa non solo qui ma lo fa anche dopo nella Thank You Page quindi ti permette di riaprire l'ordine inserendo dei prodotti all'ultimo minuto questo aiuta molto per aumentare lo scontrino medio non tutte le piattaforme lo permettono a livello tecnico ovviamente va sviluppato oppure vanno trovati per esempio dei moduli per esempio Shopify ne ha qualcuno anche per la parte di Thank You Page che possono aiutarci nell'implementazione di questa pagina intermedia con l'obiettivo di fare ulteriore upselling la parte di check out mi dà l'opportunità di partire dalla mia mail per poi decidere se registrarmi o continuare oppure acquistare direttamente come ospite e qui posso avere i pedi di pagamento che non erano comunicati prima ma che andrebbero comunicati perché secondo le best practice è importante far capire all'utente come può pagare per esempio qui mi dà l'opportunità di pagare anche alla consegna e per molti acquistare in contrassegno può essere una leva importante per decidere se comprare o meno vi dico che se andate a vedere molti utenti cercano il nome dell'e-commerce più parola contrassegno nei motori di ricerca proprio per capire se spediscono o meno in contrassegno mi dà l'opportunità di scegliere due corrieri oppure di ritirare tramite fermo point e quindi qui posso andarci a mettere poi quello che è il mio punto vendita è fatta davvero bene l'implementazione ma fermo point poi lo conosciamo mi dà anche la possibilità di acquistare con google pay o apple pay ovviamente poi sulla parte mobile wallet sul mobile che è estremamente importante quindi non continuo però da qui in avanti insomma è fatto davvero bene e questo si chiama un checkout un guest checkout tendenzialmente one one step o comunque non mi dà l'opportunità di tornare indietro se non cliccando sul brand e quindi mi toglie il menu e mi porta diciamo verso la conclusione dell'acquisto ma mi dà anche la possibilità di chiamare nel momento in cui ho necessità di entrare in contatto questo serve per eliminare tutte le distrazioni in un momento importante come quello del checkout andiamo a vedere adesso la parte mobile ovviamente a livello di section e di elementi tutto quello che abbiamo visto nel desktop andrebbe poi riportato anche qui da mobile la prima cosa che vediamo è che lavora in modalità responsive quindi i banner vengono poi ridimensionati a partire dal desktop e diventano anche di difficile lettura quindi il consiglio è sempre di preparare asset e grafiche diverse sia per il mobile sia per il desktop un sito come Notino ovviamente mi immagino che avrà un 80 un 90% del traffico da mobile e quindi una progettazione mobile first sicuramente aiuta in questo caso rispetto al desktop prima c'erano tre rafforzativi ce n'è solo uno mentre si potrebbe sfruttare questo spazio comunque per riportare tutti e tre il menu è abbastanza fatto bene sicuramente si potrebbe migliorare un pochino quello che è lo spacing tra le varie voci per il resto ovviamente a cascata si riporta tutto quello della home page ecco i banner in questo caso più che orizzontali studiarli in modalità magari anche quadrata che possono aiutare nella lettura del testo comunque vanno poi ottimizzati e quindi sulla home page diciamo ci sono le criticità viste già prima cerchiamo anche qui un prodotto idem quindi mi riporta anche questa ottimizzazione andiamo a vedere adesso una categoria vediamo come vengono gestiti anche qui ci sono come vedete delle scorciatoie e questo può aiutare i filtri vengono gestiti correttamente tramite un click con anche la possibilità di gestire degli intervalli di prezzo oppure andare a gestire l'ordinamento quindi questo sicuramente può aiutare i breadcrumbs dovrebbero essere tutti espansi e quindi non solo l'ultima pagina che sto vedendo e come vedete ci sono due prodotti sponsorizzati proprio perché Notino per quanto è grande va a vendere questi posizionamenti principali diciamo nel merchandising e questo comunque ci deve anche far riflettere nel momento in cui cresciamo possiamo monetizzare con i brand che vendiamo è fondamentale perché sono centri di ricavo che non abbiamo mai magari approfondito ma che su e-commerce grandi comunque fanno parte poi di un panomiglia molto più esteso la scheda prodotto era completa prima lo è anche qui nel trucco ovviamente è diversa perché quindi cambia c'è un configuratore con anche l'elenco delle tonalità e questo può aiutare poi nella scelta del prodotto stesso sono riportate tutte le informazioni bene gli accordion perché altrimenti verrebbe troppo lunga la scheda prodotta quindi questa è una best practice e poi andrebbero riportate anche qui tutto quello che abbiamo visto prima nel desktop la parte di checkout tendenzialmente è la stessa è ottimizzata per la parte di mobile quello che posso consigliare sulla parte di mobile è di rivedere sicuramente alcuni elementi dell'home page di ottimizzare meglio quelli che sono gli asset grafici perché poi ovviamente a cascata questo ci permette di fare un'ottimizzazione verticale sulla parte di mobile siamo giunti al momento della votazione della nostra analisi iniziamo con l'usabilità il sito devo dire è abbastanza ben fatto ci sono alcuni elementi alcune section qualcosa da rivedere come abbiamo visto ma nel complesso mi sento di dare quattro carrelli per quanto riguarda le informazioni sui prodotti sono davvero molto complete ci sono non solo le descrizioni ci sono anche tanti rich content mancano i Q&A mancano alcune FAQ sui prodotti sicuramente le recensioni andrebbero rese più visibili però anche qui quattro carrelli sulla parte SEO alcune best practice ci sono altri test sono molto molto interessanti ma mancano l'interlinking e altre ottimizzazioni che abbiamo visto tre carrelli sulla value proposition un sito come Notino sicuramente non ha bisogno di presentazioni ma è sempre bene comunicare e far conoscere agli utenti quelli che sono i valori e motivi per il quale acquistare su Notino.it oltre a inserire ben in evidenza rafforzative garanzie e benefici che si hanno nell'acquistare su questo e-commerce tre carrelli infine su quello che riguarda il customer care mi sarei aspettato non solo la possibilità di comunicare tramite un numero telefonico ma anche tramite messaggistica istantanea un chat bot whatsapp oggi sono sempre più utilizzati dai nostri acquirenti due carrelli se ti è piaciuto il video se vuoi farti recensire anche il tuo e-commerce clicca qui in basso e compila il form ma soprattutto lascia un bel like e iscriviti al canale ciao alla prossima ciao